dottore quattro domande per te il tuo film preferito scarface scarface il tuo colore preferito rosso rosso bene tuo cibo preferito cibo che non stanno tante uno uno che te posso di rettuccine ai funghi porcini il tuo cantante o gruppo preferito berry white berry white allora ma il tuo colore preferito nero il tuo gruppo musicale preferito o cantante e queen e queen il tuo cibo preferito i suppi il riso i suppi o il riso è riso è suppi sorriso e soppi ok e la tua serie tv preferita vis-a-vis vis-a-vis allora in privato vi ho fatto delle domande adesso vediamo se sapete le risposte dell'uno dell'altro ok allora papà il colore preferito di mamma bravo hai preso ma il colore preferito di papà non è stata quella la sua prima risposta insomma ho dato pure un'opzione hai dato un'opzione però vabbè c'è un altro tentativo nero no colore preferito è che può piacere scusa grigio rosso 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 però il colore ha detto non è preso punteggio per ore come intensità esatto pa la serie tv preferita di mamma ma quella che vede a pranzo no che beautiful una serie dai una serie tipo netto ce ne stanno 8 miliardi ma che ne so io quando sai senza scuse poi vince il milione d'euro rispondi una spara di quelle già viste e viking come viking no non è quella sbagliato no a casa dei arti no e vis a 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 vis mamma il film preferito di papà il film scarface scarface punto per mamma punto per mamma poi il cibo preferito di mamma i polpetti quasi c'è quasi preso la forma il polpettone no sono romani sono romani in giro ne trovi se vai a milano ne trovi per ditta in ciale ne trovo mai ma che cosa oddio come si chiama oddio mamma io sto sud a freddo e basta troppo tempo di supplì il cibo preferito di papà cosa la carbonara no la patriciana no la pasta capumarola in coppa no e fettuccine che i funghi porcini ma a quelle quattro sorti in padella che ha morto loro fettuccine i funghi porcini e ultima domanda cantante preferito di papà oddio cantante preferito di papà cantante o gruppo eh gruppo i bim floyd no non è stata quella la sua risposta ci poteva stare ci poteva stare ma non è quella c'è un altro tentativo dai eh sempre gruppo però eh no anzolista te l'aiuto anzolista famoso molto famoso di colore ah michael jackson no michael jackson papà è di colore Barry white ma Barry white comunque domanda a te gruppo o cantante preferito di mamma i queen i queen presa mi dispiace ma questa mano se la giudica il dottore vittoria per il dottore meglio io meglio io te conosco ma dove non mi devi vedere fammi vedere i cd di Barry white che stanno ma che stanno a spezzare i bim floyd a me è un gruppo io no io lui mi ha detto un cantante e quindi io ma tu l'avamo messo dentro casa a Barry white ma io avevo pure macchina a Barry white ma che scherzo io sempre quando sto da solo dentro la sua ho detto Alexa metti Barry white e parte lui secondo me lo sente o quando sta al bagno o quando sta solo in macchina ma le notte lo stimola parecchio grazie a tutti grazie a tutti